Hai paura di uscire contro Lil? Beh, sì. Dovrei non aver paura. Sono 50-50, non è che... Non è che mi sento meglio di lei o mi sento peggio di lei. Tant'è che un giudice fa io non so cosa dire. Siamo due stili tanto, tanto diversi, Lil. Tanto diversi. E adesso ho un pezzo che devo cantare. Cioè, voglio cantarlo al massimo, no? Cioè, devo far vedere tutto quello di cui sono capace. Cioè, devo far vedere questo brano come se l'avessi scritto io. Alla fine... Non dico il mio destino in questa casetta è dato da questa canzone. Però più o meno...